Ivanhoe di Walter Scott. Manca un H qua, però diciamo italianizzato, così il nostro titolo senza H, però ecco di per sé un titolo originario sarebbe con l'H. Bene, parliamo quindi adesso un po' di Walter Scott. Walter Scott, uno scrittore scozzese, nato ad Edimburgo il 15 agosto del 1771. A 15 anni il padre lo accolse nel suo ufficio legale, in buona sostanza quindi cercando di introdurlo all'attività in campo giuridico. Nel 1792 però, trascorsi 5 anni di tirocino, è vero, fu ammesso in tribunale e anzi fece anche una discreta carriera in quell'ambito. Nel 1799 fu infatti nominato sceriffo di Serkirk, quindi cancelliere di corte giudiziaria. Il suo amore per la poesia e per la storia della sua terra, però, si era già manifestato quando egli era ancora in giovanissima età. La raccolta di canti popolari di Alan Ramsey e quella di Percy costituirono per Scott una grande rivelazione. Cominciò allora a tradurre ballate tedesche che da quelle di Percy traevano ispirazione. La sua notorietà ebbe inizio, ecco, attenzione, cerchiamo di spiegare questa cosa fondamentale. Lui si sposò e prese una decisione radicale nella vita, cioè decise di lasciare questa attività di avvocato, insomma, giuridica, anche piuttosto gratificante dal momento che aveva ottenuto anche questo incarico di sceriffo. Decide però di dedicarsi totalmente a quella che è la sua passione. Per un certo periodo di anni era stata una passione per il tempo libero, ma lui l'aveva continuata a coltivare e la portò avanti, quindi, da un certo momento in poi, decidendo di fare lo scrittore a tempo pieno. Ecco, abbiamo parlato, per esempio, di poesia tedesca. Essenzialmente Walter Scott, infatti, è un romantico e quindi prende moltissimo dai tedeschi che in quegli anni proprio avevano elaborato, rappresentavano un po' il motore, il propulsore della poesia romantica in Europa. Comunque, non c'è da dimenticare che Walter Scott conosceva anche la poesia italiana e la poesia francese, la apprezzava, però sempre con questo sguardo, diciamo così, romantico, di grande innovazione a cui lui tendeva e di grande attenzione verso la poesia popolare. Ecco perché era perfettamente in sintonia, dicevamo, con i poeti tedeschi, con i poeti romantici, perché programmaticamente cercavano di recuperare le tradizioni, tradizioni anche remote nel tempo, fino ad arrivare al Medioevo. Ecco, qui ci stiamo già un po' introducendo a quello che è il cuore della nostra serata, dedicata a un romanzo ambientato nel Medioevo. Ma dobbiamo arrivarci con calma, perché oltre a questa attenzione per il Medioevo, indubbiamente lui aveva una grandissima attenzione per la sua Scozia, per la terra in cui era nato. Infatti abbiamo detto che proprio la sua prima opera fu quella di Minstrelsy of the Scottish Border, quindi la poesia giularesca del confine scozzese. Quindi siamo nel 1802-1803, quando lui pubblica questa raccolta di poesie, cercando anche di recuperare la sua tradizione popolare, la tradizione del suo popolo, la tradizione scozzese. E poi scrisse un romanzo in versi, scrisse dei poemetti. Continua dopo il 1802-1803, quindi la pubblicazione di questa raccolta di poesie, poi successivamente pubblicò una specie di romanzo in versi, The Lay of the Last Minstrel, il canto dell'ultimo menestrello, nel 1805, a cui fecero seguito la signora del lago, il signore delle isole, insomma tanti poemetti, in cui anche c'era una parte narrativa, indubbiamente, ma prevaleva la prosa. Insomma esordisce Walter Scott come poeta più che narratore. Come mai la svolta del 1814? Si era affacciato sulla scena culturale il poeta Lord Byron e disse apertamente Walter Scott che era consapevole di non poter competere con lui, con Lord Byron, e quindi decise di intraprendere una strada diversa, quella della narrativa. Ecco che quindi nel 1814 scrive il suo primo romanzo. Il suo primo romanzo è indubbiamente già un romanzo importante, programmatico, che già gli fece acquistare una certa notorietà. Il successo lo indusse ad abbandonare definitivamente ogni altra attività e a dedicarsi esclusivamente alla narrativa, al romanzo. Ecco, infatti, Waverley era un romanzo in cui si condensavano alcune delle idee molto in voga all'epoca ancora in Scozia. Ecco, ricordate che recentemente c'è stato addirittura un referendum per una secessione della Scozia dal Regno Unito. Ecco, diciamo che lo sappiamo, no? Avrete visto il film Braveheart, che spesso gli scozzesi covano idee indipendentiste. Lo facevano, lo fecero nel 1700, cercando di portare avanti la causa giacobita. I giacobiti erano coloro che volevano la restaurazione della casa degli Stuart, in buona sostanza quella dinastia che aveva regnato in Inghilterra nel 600, e che era una dinastia di re d'Inghilterra e di Scozia, quindi molto legati alla Scozia, gli Stuart. Poi invece erano arrivati gli Hannover. Nel 1700 ci fu una vera e propria rivolta contro gli Hannover, nel tentativo di restaurare gli Stuart. Questa rivolta fu sedata nel sangue. Il libro Waverly rappresenta proprio questo tentativo di restaurazione. Il protagonista, Waverly, aveva queste idee profondamente anti-inglesi, possiamo definirle così. Suo padre invece era più portato ad accettare la situazione, quindi ad accettare la dinastia degli Hannover. Ecco, ricordatevi questa cosa perché poi invece in Ivanhoe accadrà esattamente l'opposto. Cioè il padre di Ivanhoe era più radicale, intransigente e quindi non accettava i nuovi signori, le nuove dinastie. Mentre invece Ivanhoe diventa fedele seguace del re normanno, quindi del re della nuova dinastia, la dinastia dei normanni. Ma adesso ho anticipato delle cose sulle quali adesso ritornerò approfondendo. Poi magari faremo un'altra diretta su Waverly, però adesso è il momento di riprendere il nostro discorso sulla biografia di Walter Scott. Ecco, in quegli anni, dopo il 1814, c'è la pubblicazione, uno dopo l'altro, di una serie di romanzi di ambientazione scozzese. Per esempio, Guy Mannering, l'antiquario, il nano nero, la sposa di Lammermoor, la leggenda di Montrose. Ecco, poi c'è una piccola svolta. La svolta è rappresentata proprio dal nostro romanzo, Ivanhoe, del 1819. Nel 1820, ripubblicato, divenne il romanzo best seller non solo dell'Inghilterra, ma anche dell'Europa del tempo. E arrivò quindi ovviamente alle orecchie di Alessandro Manzoni questa notorietà. Ma, ritornando a noi, come mai questa svolta? Cioè, mentre i romanzi precedenti erano di ambientazione scozzese, è anche piuttosto vicina ai tempi di Walter Scott. Perché abbiamo detto che Waverly era ambientato nel 1700, quindi appena un secolo prima rispetto alla stesura del romanzo. C'è una svolta anche perché, piano piano, Walter Scott si sta rendendo conto che la causa autonomista, la causa indipendentista, secessionista degli scozzesi non ha più senso di esistere. Cioè, è lui stesso, il primo che cerca, o comunque uno dei primi, che cerca una mediazione con l'Inghilterra, che cerca una mediazione con il re Hannover, il re Hannover, della dinastia Hannover del tempo, è il re Giorgio IV. Addirittura, Walter Scott organizzerà una visita di Giorgio IV in Scozia, cosa che non avveniva da più di un secolo. Cioè, il re d'Inghilterra da più di un secolo non andava a visitare la Scozia. Ecco, la svolta ci fu proprio anche grazie a Walter Scott, il quale si rese conto che non c'erano più i presupposti per lottare per un'indipendenza, che pure lui aveva rappresentato in tantissimi di quei romanzi scozzesi, che poi ispireranno anche tanti altri, per carità, no? Ma, a un certo punto, una svolta. E la svolta avviene proprio con Ivanhoe. O meglio, anche in Ivanhoe c'è un po', diciamo così, il risentimento di chi è stato defraudato del potere e il tentativo di restaurare una dinastia precedente. Ma c'è anche la consapevolezza che questa ormai è una scelta anacronistica che non ha più senso di esistere. Ricapitoliamo. In Ivanhoe si parla di Sassoni e, come ben sappiamo, i Sassoni sono stati sconfitti nella battaglia di Hastings dai Normanni, da Guglielmo Conquistatore, più di cent'anni prima del nostro 1194, l'anno in cui è ambientato il romanzo Ivanhoe. Ebbene, dicevamo che esattamente come avviene nei Promessi Sposi, quando si parla di spagnoli ma sono sottintesi gli austriaci. Ecco, nel romanzo Ivanhoe, comunque nella sua gestazione originaria, c'era una storia antica del Medioevo di contrapposizione fra Sassoni e Normanni, ma che poteva sottintendere ancora una volta la contrapposizione tra scozzesi e inglesi, o se volete ancora tra Stuart e Hannover. Ma questa cosa, alla fine, nel romanzo di Ivanhoe, viene risolta. E viene risolta attraverso il re Normanno, il re Normanno Riccardo Cordileone. Lui stesso, ma anche lo stesso Ivanhoe, in tantissime frasi di questo romanzo, sintetizza così la questione. Queste sono storie ormai vecchie, è arrivato il momento di considerarci tutti inglesi. Questa è l'idea di Ivanhoe, che lotta, che combatte, che salva la vita di Richard Lionhearted, quindi di Riccardo Cordileone. E il padre, il padre Cedric, non ha capito questo, non ha ancora compreso che ormai non è più il tempo di lottare fra di noi, ma è il tempo di riconoscere ormai il re, il vero re d'Inghilterra, è il re Riccardo Cordileone, combattere per lui e quindi riconoscere la dinastia normanna. Vi ho accennato a queste tematiche politiche importanti, adesso, poi ovviamente ritorneremo a parlare di Ivanhoe, ma adesso continuiamo a dire che cosa avviene dopo, negli altri 12 anni circa di vita, di Walter Scott, che morirà nel 1832. Continua a scrivere tantissimi altri romanzi, Il Pirata, La Fortuna di Nigel, Cantin Darward, La Promessa Sposa, ah sì, è vero, c'è proprio un romanzo che racconta una storia simile a quella dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, solo ambientata nel 1300. Poi ancora, il talismano Woodstock Labate, ecco Labate è un altro grande capolavoro, diciamo, della narrativa di Walter Scott. Dopo aver guadagnato a somme ingenti, fu coinvolto però Scott nel fallimento del suo editore tra il 1825 e il 1826 e per pagare i debiti conseguenti a questo fallimento continuò a scrivere infaticabilmente, finché nel 1830 ebbe un colpo apoplettico. Riavutosi a stento, venne in Italia nel tentativo quindi di essere in un clima che poteva essere più favorevole per la sua guarigione, soggiornò qui per un paio d'anni ma poi tornò in Inghilterra. Purtroppo la sua malattia non era stata del tutto superata. Morì a Abbotsford il 21 settembre del 1832. Ecco qui vediamo altre immagini, dipinti che ritraggono Walter Scott. Walter Scott era diventato una celebrità all'epoca. Il funerale che fu in Scozia, quindi probabilmente dalle parti proprio di Edimburgo, vide la partecipazione di tantissimi, anche provenienti dall'Inghilterra, perché appunto con la storia di Ivanhoe e non solo, ormai aveva stemperato i suoi ardori scozzesi, Walter Scott, ed era diventato una star internazionale della letteratura. E quindi tantissimi parteciparono, dicevamo, al suo funerale. Queste sono altre immagini di Walter Scott, rappresentato ad Edimburgo, ma non solo, e ricordato nell'Università di Edimburgo e non solamente. Questi sono dei ruderi di chiese scozzesi e queste sono le Highlands, quindi le terre alte, le terre del nord, che sono lo scenario, l'ambiente di tantissimi romanzi del Walter Scott, ma della prima fase narrativa di Walter Scott soprattutto, perché poi da Ivanhoe in poi ha ambientato i suoi romanzi anche in Inghilterra, quindi più a sud. Ecco, altre immagini delle Highlands e andiamo adesso invece tra i monumenti. Adesso non vi so dire qual è quello di Edimburgo, ma c'è una statua importante ad Edimburgo proprio. Ecco, dovete sapere una cosa. Prima ho accennato a Giorgio IV che fece una visita. Questa visita fu un vero e proprio successo. Da quel momento in poi la dinastia regnante inglese decise di non fare come era avvenuto per un secolo e più, cioè di non trascurare la Scozia. Addirittura poi, qualche tempo dopo, da parte della regina Vittoria, come lo sapete abbiamo fatto il video nell'età vittoriana nel 1837, addirittura la regina decise di comprare un castello a Balmoral in Scozia e di trascorrere del tempo in Scozia, cosa che voi lo sapete, lo ricorderete, ha fatto anche la regina Elisabetta, Elisabetta II, quella che è morta recentemente. Quindi questo legame tra l'Inghilterra e la Scozia si è consolidato da quel momento in poi, grazie anche a Walter Scott, che vi ricordate aveva lui stesso organizzato questa visita del re Giorgio IV ad Edimburgo in Scozia. Mi è arrivato finalmente il momento di parlare di Ivanhoe. Ecco, utilizzeremo questo metodo. Prima parleremo dei personaggi e poi parleremo della trama, in modo tale che se qualcuno vuole, incuriosito, leggere il romanzo senza sentire l'ultima parte sulla trama, lo può fare. Ecco, qui abbiamo tantissime trasposizioni cinematografiche di Ivanhoe, a quanto pare anche qualcuna con attori molto famosi. Si tratta di Wilfred di Ivanhoe, protagonista del romanzo, a cui si deve il titolo. Un giovane sui 25 anni, capelli corti, biondi, indossa quasi sempre l'armatura, è un grande guerriero, figlio di Cedric, Cedric di Rotherwood. Con suo padre ha avuto un diverbio in seguito alla sua partenza per la Terra Santa. Ma il diverbio stava anche in questo. Cioè che Ivanhoe voleva sposare la bellissima Lady Rowena, ma il padre non era di questo avviso. Il padre voleva infatti che sposasse un altro importante, nobile Sassone, perché il padre aveva un sogno, una rivalsa Sassone. Cioè voleva rifondare uno stato indipendente, Sassone, combattere contro i Normanni. Un altro modo con il quale viene chiamato Ivanhoe è Cavaliere diseredato, perché il padre lo aveva diseredato. Come? Vai a combattere sotto il re Normanno, Richard Lionhearted, quindi sotto il re e per il re Riccardo Cordileone. Ma è un Normanno, tu sei un Sassone, non avresti dovuto fare questo. Ovviamente è il protagonista di questo romanzo, come ci fa capire già il titolo. È ricambiato il suo amore da Lady Rowena. Proviene da una famiglia nobile, di una nobiltà Sassone, appunto, e fa della guerra e del ruolo di cavaliere, se vogliamo, proprio condensando in sé quelli che sono gli ideali cortesi. Riproponendo, ecco, Walter Scott ripropone questi ideali cortesi che sono proprio sintetizzati e rappresentati da Ivanhoe. Suo padre, Cedric di Roderwood, un nobile Sassone, un po' ottuso, un po', dicevamo, aveva queste idee anacronistiche. Un uomo dalle spalle larghe, le braccia lunghe, corporatura solida, lunghi capelli biondi divisi sul capo e sulla fronte, i Sassoni, no, tipicamente, no, biondi, che scendono da ogni lato fino alle spalle. Ricordate che i Sassoni, infatti, erano di origine germanica. Ha circa 60 anni. Veste un abito costituito da una tunica verde orlata al collo e ai polsi di pelliccia, che copre una giacca scarlatta, chiusa e attillata. I calzoni sono della stessa stoffa, ma lunghi solo fino a metà coscia. Ci viene in mente qua il kilt, no? Per dire quindi che, in buona sostanza, lui porta avanti delle tradizioni. Le tradizioni che poi, tipicamente, gli scozzesi hanno mantenuto, come, ad esempio, il kilt. Anche se, abbiamo spiegato che, in realtà, quello che indossa Cedric sono semplicemente dei pantaloni corti, non un vero e proprio kilt. Bracciadone di bracciali d'oro, una collana dello stesso metallo. La vita è cinta da una grande cintura decorata da borchie e alla quale è appesa una spada. Ecco, è minuziosa la descrizione di Cedric da parte di Walter Scott. Molto importanti anche sono i dialoghi nel romanzo di Walter Scott, che ci permettono proprio di entrare nel vivo della vicenda. Cioè, noi lettori ci medesimiamo nella storia, entriamo proprio in quel mondo di tanti, tanti secoli fa, il mondo della terza crociata. Ricorderete che abbiamo fatto una serata sulla terza crociata, nel 1190, la crociata dei re, c'era il re di Francia, c'era l'imperatore Federico Barbarossa, che perse la vita durante questa crociata, e c'era il re d'Inghilterra, Riccardo Cordilione, che ebbe delle vicissitudini proprio per quanto riguarda il suo ritorno in patria. E nel frattempo, l'Inghilterra era in mano a John, quindi a Giovanni, il fratello. Stavamo dicendo quindi di Cedric di Rotherwood, ma l'abbiamo già detto, la cosa più importante che caratterizza questo nobile sassone, molto orgoglioso, è anche un po' questa idea, un po' retriva, nel suo castello, infatti, vorrebbe organizzare una rivolta antinormanna, poi però, in base alle leggi dell'ospitalità, gli conviene anche accettare tutti quelli che si presentano a lui, anche se magari sono normanni, e quindi un pochino meno graditi. Lady Rowena, Lady Rowena, potete vedere dei manifesti di film, è una ragazza alta, da colorito chiaro, dai lineamenti fini, gli occhi azzurri, capelli lunghi, anche lei porta bracciali con lana d'oro, insomma, tutte le cose che connotano i nobili. Ha un carattere altero, non si lascia convincere facilmente, sa però quello che vuole, e fa di tutto per ottenerlo. È stata educata all'indipendenza, anche quando le donne allora erano costrette all'obbedienza. È una lontana parente di Cedric, e per questo motivo, siccome lei aveva perso insomma i genitori, Cedric era diventato il suo tutore, e quindi in qualità di tutore, era lui che doveva decidere chi avrebbe sposato Lady Rowena. E poi abbiamo i fedeli servitori. I fedeli servitori di Cedric, e quindi anche di Ivanhoe, sono Gart, scritto Gurt, TH, guardiano di maiali, abbastanza anziano, rude, selvaggio, fedele, molto fedele al suo padrone, fa tutto per lui. È un personaggio dinamico, infatti grazie alla sua fedeltà per il padrone, alla fine Gart diventerà un uomo libero, e non più servo di Ivanhoe. E poi c'è Wamba, buffone di corte, che in un certo senso completa la coppia, Wamba e Gart. Anche egli è servo di Cedric, di Roderwood, e quindi anche di Ivanhoe. Molto fedele. Infatti, quando Cedric poi si troverà in grandi difficoltà, lui sarà disposto a sacrificare tutto per lui, per liberare il padrone. Poi abbiamo i personaggi un po' più negativi. Ecco, i personaggi positivi sono tutti sassoni, i personaggi negativi sono tutti normanni. No, non è vero, perché c'è un personaggio normanno che è positivo, che è il re. Il re Riccardo Cordileone, che si presenterà, è vero, ritornerà, ma un po' di nascosto in Inghilterra. E quindi si presenterà, si nasconderà sotto un'armatura nera, il cavaliere nero. Ecco, un altro personaggio molto molto importante è Isaac di York e anche importante è sua figlia Rebecca. Ecco, perché sono importanti questi due personaggi? Perché appartengono appunto agli ebrei, un gruppo etnico che generalmente, soprattutto nel Medioevo, ma non solo, sappiamo, anzi, potremmo dire soprattutto nel Novecento, sono stati perseguitati, sono stati emarginati. E quindi, diciamo che è anche il segno di una grande, bella apertura mentale la presentazione di questi due personaggi, Isaac di York e la figlia Rebecca, come personaggi che sono dalla parte dei buoni. Ecco, infatti, diciamo che è sempre molto garbato nei suoi giudizi, nelle sue osservazioni, è molto umano Walter Scott, forse anche per questo motivo piaceva molto ad Alessandro Manzoni. Aveva come Manzoni un interesse per la storia, però dobbiamo dire la verità, in questo Manzoni era decisamente ancora più preciso rispetto a Walter Scott. Vi ricordate che addirittura nel romanzo dei Promessi Esposi Manzoni citava le fonti storiche, quindi l'aspetto storico del vero della realtà per Manzoni era fondamentale. Accanto a questo c'era il vero simile, lo sappiamo, stiamo parlando del romanzo storico, indubbiamente, però, ecco, un po' anche la lontananza nel tempo maggiore, superiore del romanzo di Walter Scott fa sì che ci sia anche un'intromissione della leggenda e la leggenda si intromette attraverso la figura popolare di Robin Hood. cioè Robin Hood è una specie di trasfigurazione leggendaria di un qualcosa che effettivamente accadde in quel periodo, cioè nel periodo della Terza Crociata in Inghilterra c'erano dei nobili che erano stati esautorati, gli era stato tolto il potere, i castelli, il titolo, a causa proprio di questo re Giovanni, King John, che aveva i suoi preferiti tutti normanni assolutamente e aveva tolto il potere anche a degli uomini nobili che sotto il re Riccardo invece erano ben considerati. Probabilmente è successa una cosa del genere per cui uno di questi ex nobili si è dato alla macchia, ha iniziato a combattere contro i raggiovanni e contro i suoi preferiti in modo tra virgolette illegale, ma si tratta di un'illegalità che poi è diventata nel corso del tempo nella leggenda popolare veramente qualcosa di straordinario come se Robin Hood fosse appunto non solamente colui che combatteva contro l'usurpatore il re Giovanni o contro diciamo gli amministratori o i nobili normanni che approfittavano della situazione ma anche colui che difendeva gli interessi dei poveri gli interessi degli umili gli interessi della povera gente della brava gente ecco questo sono storie che ovviamente voi conoscete c'è tutta una sfilza diciamo di testi che vanno già dalla fine del medioevo fino si può dire ai nostri giorni di reinterpretazione di questa figura di Robin Hood nel capitolo quarantunesimo di Ivanhoe compare Robin Hood a fianco di Ivanhoe e di Cedric insomma di coloro che stanno subendo le angherie di questi normanni cattivi poi un'altra cosa che c'è da dire importante sul romanzo è l'uso della lingua cioè ci sono dei termini o scozzesi o vernacolari o dialettali o arcaici ecco che servono per dare quella patina particolare a questo romanzo patina di arcaicità di sapore medievale sicuramente ma anche diciamo così un po' anche se non si parla di scozia non siamo non è ambientato nella scozia questo romanzo per dare questa questa patina popolare che era stata quella che aveva caratterizzato l'abbiamo spiegato tutta la letteratura di Walter Scott fino a quel momento allora stavamo parlando dei vari protagonisti e ci siamo soffermati moltissimo su Isaac di York e soprattutto sulla figlia Rebecca che diventa una protagonista insomma di questo romanzo adesso lo scopriremo quando parleremo della trama e poi abbiamo dicevamo i cattivi i cattivi sono John il re Giovanni Giovanni senza terra Giovanni d'Angio salito al trono mentre fratello maggiore era assente per andare a combattere nella crociata frivolo malvagio e così come dire tutti coloro che avevano risentimento nei confronti di Riccardo si legano al nuovo re diciamo si legano al re Giovanni e in questo modo possono spadroneggiare indisturbati nell'Inghilterra del tempo o quasi del tutto indisturbati perché come abbiamo spiegato poi c'era Robin Hood che veniva in aiuto di queste persone perseguitate e poi abbiamo i tre grandi cattivi della storia perché è vero c'è il re Giovanni però all'interno del romanzo assume un ruolo diciamo non così attivo ecco nella storia invece abbiamo questi cavalieri alcuni proprio provenienti dalla terra santa come il cavaliere templare Brian de Boagilbert cavaliere normanno effettivamente anche abbastanza coraggioso ma molto arrogante molto orgoglioso molto crudele dissoluto con un cuore duro fa parte degli ordini dei guardiani del tempio quindi dell'ordine dei templari ma di fatto è un miscredente per come si comporta ecco ricordate anche questa cosa che accomuna ovviamente Alessandro Manzoni a Walter Scott c'è un'idea cristiana di fondo possiamo dire ecco lui desidera Rebecca quell'ebrea così virtuosa che infatti poi sarà anche rapita nel corso del romanzo un altro suo amico diciamo così un altro cavaliere normanno è Ron de Boeuf Ron de Boeuf praticamente ha occupato un castello una residenza che non era sua quindi un altro usurpatore feroce duro rapace in cute terrore in chi gli è vicino e poi abbiamo De Brassi De Brassi Normanno che è possiamo dire un grande consigliere del re Giovanni che è innamorato di Lady Rowena la vuole sposare e quindi vedremo appunto nella storia nel corso della storia che cosa farà per ottenere a tutti i costi quello che invece lei non voleva assolutamente darle perché abbiamo detto che lei è molto fiera orgogliosa molto legata a Ivan e non avrebbe nessuna intenzione di sposarsi con De Brassi allora dicevamo che adesso da questo momento in poi parliamo un po' della trama di Ivan Ho e quindi non so se qualcuno adesso ha elementi più che sufficienti per poter leggere questo romanzo e non vuole sapere l'intreccio della storia ci lascia altrimenti potete restare allora entriamo in Medias Res cosa vuol dire che il romanzo incomincia senza parlarci dell'antefatto quindi della crociata né tantomeno della battaglia di Hastings ma siamo nel 1194 e siamo vicino a Rotherwood quindi alla residenza di Cedric quando ormai suo figlio già è partito da anni e anni per la crociata e ancora nessuno l'ha visto ritornare e quando i servitori di Cedric cioè Wamba il giullare insomma e Gart l'anziano servitore intravedono un gruppo di Normanni a cavallo e quindi questi gruppi insomma questo gruppo di Normanni vorrebbe trovare alloggio da qualche parte però continuano a girare a vuoto e non riescono a trovare nessun posto dove poter essere accolti fino a quando non arriva qualcuno che è travestito da eremita da pellegrino con un cappuccio strano che gli copre la testa ed è proprio lui ad accompagnare questi due Normanni da Cedric di Roderwood abbiamo detto che adesso però spieghiamo un po' la trama ecco questo uomo incappucciato non è altri che il nostro Ivanhoe che è ritornato già dalla Terra Santa ma diciamo è in incognito perché non solo deve temere appunto i Normanni che magari gli sono gli potrebbero essere un po' ostili ma deve temere anche suo padre perché il padre l'ha diseredato ricordate quello che abbiamo detto all'inizio comunque sta di fatto che questi due Normanni che non sono nient'altro se non von de Boeuf e de Bois-Gilbert di cui abbiamo detto prima vengono accolti anche se Normanni nel palazzo di Cedric di Roderwood certo lui non è molto contento di ospitarli perché è molto provo a risentimento nei confronti dei Normanni ma comunque li accoglie con un banchetto durante questo banchetto Brian di Bois-Gilbert è colpito dalla bellezza di Lady Rowena la pupilla di Cedric che è come abbiamo spiegato suo tutore ma lei ama Ivano e aspetta il momento in cui finalmente Ivano ritorni dalla Terra Santa accanto a questi due Normanni c'è questa eremita che è Ivano ma che continua a tenere il cappuccio per nascondere il suo volto mentre i cavalieri discutono alla porta bussa un ebreo di nome Isaac de York la notte stessa l'eremita quindi il nostro Ivano praticamente salva la vita l'ebreo Isaac de York infatti era stato aggredito da una da un gruppo di briganti che però di fatto erano al soldo proprio di Brian de Boagilbert lo volevano assassinare e invece interviene Ivano che lo salva e l'accompagna l'ebreo lo ricompensa rifornendolo di un cavallo e di un'armatura con la quale potrà partecipare Ivano a un torneo che si tiene nei paraggi e infatti anche Brian de Boagilbert e Von Deboeuf erano giunti in quel territorio proprio per partecipare a questo torneo a questo punto si racconta nel romanzo di un antecedente cioè di un antefatto ecco abbiamo detto che il romanzo comincia in medias res ma certe volte all'interno del romanzo si racconta quello che è avvenuto in terra santa per esempio è vero che i crociati hanno perso Gerusalemme e non quantomeno non sono riusciti a riconquistare Gerusalemme ma è anche vero che i crociati hanno però conquistato San Giovanni d'Acri e quindi per festeggiare per questa vittoria hanno indetto un torneo una giostra la giostra medievale come ben sapete consisteva in una sorta di grande torneo di cavalieri i quali si sfidavano e lanciavano i loro cavalli l'uno contro l'altro e lo scopo era quello di disarcionare l'avversario vinceva la diciamo questa giostra chi disarcionava tutti gli avversari che gli si ponevano contro ovviamente questo tipo di gioco era piuttosto violento certe volte poteva capitare che anche se si trattava di cavalieri che militavano nello stesso esercito si poteva anche morire se sbalzati dal cavallo in modo piuttosto violento ecco nel corso di queste giostre che si erano tenute a San Giovanni d'Acri a Evanot si era distinto aveva anche sconfitto uno di questi cavalieri normanni e quindi si raccontano queste storie nel castello di Roderwood e il pellegrino l'eremita inaspettatamente ne sa quanto i due cavalieri normanni che giungevano dalla terra santa se non di più è la cosa insospettisce insomma qualcuno incomincia forse a intuire che quell'eremita non è esattamente un'eremita già l'ha intuito Isaac de York che l'ha armato di tutto punto dice c'è una giostra tu che ho visto come sei stato bravo a cacciare chi mi voleva far del mare chi mi voleva assassinare adesso potrei andare alla giostra perché sono convinto che sei capace di combattere è inutile che ti vesti diciamo così da pellegrino si intuisce che tu sei in realtà un cavaliere e difatti la scena si sposta dove c'è questo torneo dove sono presenti i nomi più prestigiosi della cavalleria del tempo e le donne più belle comprese Lady Rowena la amata da Ivanhoe e Rebecca la figlia di Isaac di York nei primi giorni del torneo si fa notare un misterioso cavaliere abile nel disarcionare tutti i suoi avversari che quindi arriva proprio alla fase finale del torneo e questo cavaliere noi lo sappiamo è proprio Ivanhoe che sveste i panni da pellegrino ed è stato armato di tutto punto da Isaac di York può però ancora nascondersi con l'elmo il re Giovanni principe se volete chiamarlo anticipa la gara di tiro con l'arco ah sì oltre a quella giostra con questo cozzo diciamo fra due cavalieri diciamo che in realtà questo tipo di competizioni era fatto anche di tiri con l'arco al bersaglio eccetera poi il banchetto finale ecco che compare dicevamo Ivanhoe e soprattutto a un certo punto dal momento che qualcuno voleva alle spalle far male ad Ivanhoe compare un misterioso cavaliere nero che salva Ivanhoe e poi scappa via che in realtà noi dopo scopriremo è proprio il re Riccardo Cuor di Leone che è ritornato anche lui in incognita in Inghilterra dopo questo torneo succede che però Rebecca Lady Rowena e Cedric quindi la fidanzata potremmo dire di Ivanhoe e poi Cedric il papà di Ivanhoe vengono rapiti proprio da da Fondeboeuf e da De Brassie questi malvagi signori normanni mentre viaggiavano appunto con le donne e vengono quindi ecco qui potete vedere una scena appunto di queste giostre in uno dei tanti film che hanno rappresentato diciamo così questo romanzo ma adesso stavo dicendo che dopo la giostra c'è il rapimento il rapimento del papà e della fidanzata di Ivanhoe e in questo frangente assume un ruolo molto importante il buffone di corte Chewamba che riesce ad ingannare questi signori che avevano imprigionato Cedric che avevano imprigionato Lady Rowena riesce ad entrare nel castello vestito da prete scambia i suoi abiti con Cedric e riesce a liberare il suo padrone Cedric a questo punto interviene all'interno della storia Robin Hood con la sua banda di fuorilegge e il misterioso anche Cavaliere Nero che è appunto il nostro re Riccardo Cordileone viene organizzato un attacco a un castello di questi normanni questo attacco si conclude con la liberazione di tutti i rapiti tranne Rebecca però l'ebrea che viene presa da Debois Gilbert c'è la morte di Fondeboeuf e il ferimento di chi l'aveva aiutato ma anche di uno che si chiama Altesan che aveva invece aiutato Cedric credendolo morto credendo che questo suo amico fosse morto Cedric organizza un banchetto per ricordarlo cui partecipa anche il re Riccardo travestito da Cavaliere Nero prima della conclusione del banchetto però Altesan si riprende dopo il suo risveglio lascia Rowena perché durante il periodo di convalescenza ha pensato alla loro storia e ha deciso di finire questa storia mentre il gran maestro dell'ordine dei Cavalieri Templari di Templeton accusa Rebecca di stregoneria l'unico modo per salvarla è far combattere un cavaliere entro tre giorni contro Frondebeuf e sconfiggerlo Ivano sarà il cavaliere che salverà Rebecca ecco Ivano salva l'Ebrea sconfiggendo Frondebeuf e così Ivano e Lady Rowena alla fine si possono sposare e Rebecca decide di andarsene via dall'Inghilterra perché ama ancora Ivano e quindi non vuole restare lì perché Ivano invece si sposa con Lady Rowena il romanzo in buona sostanza termina con un lieto fine con Ivano e Lady Rowena che possono sposarsi il bene ha trionfato quindi in fondo questo progetto questo progetto di Cedric viene abbandonato una volta per tutte cioè di far combattere Sassoni contro Normanni e quindi come vi stavo spiegando all'inizio cercando di farvi capire anche l'ideologia del romanzo alla fine si capisce che non ha più senso questa guerra fra Normanni e Sassoni e quindi attualizzando la storia al tempo di Walter Scott quindi al tempo del 1819 anno in cui lui ha scritto questo romanzo non è più il tempo di ritornare non so alla dinastia degli Stuart è il tempo invece di accordarsi con gli Hannover con Giorgio IV farlo venire in Scozia fargli visitare la Scozia creare un legame tra scozzesi e inglesi perché fanno ormai parte di un'unica famiglia questo è il senso diciamo così del romanzo ma è chiaro evidente che la diffusione la pubblicazione di questo romanzo in tutta quanta l'Europa fu come un volano che dette una spinta eccezionale alla diffusione del genere del romanzo storico pochissimi anni dopo Alessandro Manzoni un anno dopo diciamo così la pubblicazione di questo romanzo in inglese più o meno incominciò a scrivere i Promessi Sposi poi nel 22-23 fece la prima stesura del cosiddetto Fermo e Lucia senza pubblicarlo e nel 27 pubblicò i Promessi Sposi molti sono abbiamo detto i punti in comune fra l'Aivano di Walter Scott e i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni ma indubbiamente rimane il fatto che questo romanzo di Walter Scott ha un intreccio più avventuroso e incalzante rispetto al romanzo dei Promessi Sposi in cui sono presenti più interventi dell'autore riflessioni pause capitolo 22 solo su Federico Borromeo per esempio oppure due capitoli sulla peste insomma elementi storici decisamente più marcati nel romanzo di Alessandro Manzoni dove la prospettiva storica direi che è decisamente più rigorosa senz'altro magari anche semplicemente per il fatto che nel 1194 c'erano meno fonti a disposizione di Walter Scott rispetto al 600 milanese per Alessandro Manzoni ma soprattutto come abbiamo detto c'è una tecnica narrativa diversa con maggiori inserzioni di giudizi di riflessioni dell'autore di digressioni nel romanzo dei promessi sposi grazie a tutti